Hanno fatto affascire mia squadra! In terra una rinforzata! Ok, erro! Ok, è stata attrazzata! Rinforzi tutti! Siamo rinforzi! Guarda, dividete l'esercito! Copriamo il settore! Arrivato! Light up all in corso! 65% sul timer di missione! Come siamo messi? La grande capo! Preparo i cannoni per sparare di nuovo! Siamo troppo vicino a dire! Ancora un colpo ed eliminiamo la Sentinel! L'avete sentito, piloti? Finitela! Avuto, Titan attacando Titanes de vivo! Ricciamotto, finestra, secondo livello! Pianeta! Pilota venito in pista! Perfetto! Titan sarà pronto in due minuti! Ricciamotto! 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 Forza! Tras 4 e a 6! Ricciamotto! Il Titan sarà pronto in un minuto! E' quasi terminata, ma l'IMC ci sta alle costole! Manteniamo il vantaggio e facciamola finita! Il Titan è pronto! And the white! Il Titan è pronto in un minuto! Il Titan è pronto in un minuto! Atenzione, le attacca un piloto enemigo Atenzione, le attacca un piloto enemigo Atenzione, le attacca un piloto enemigo Atenzione, recuperazione rincomendata Cambiamo gli avamponi e la sentinele al limite Fish, poco volontà Capo ci sono, questo dovrebbe bastare E passa, la sentinele è andata Ottimo lavoro, gente Per l'ustrata e gli avamposti, non fate fuggire i piloti Fish, qui McCallan Barker è in linea? È in attesa, Mac Bella fiammata, Mac Farrebbe una tua specialità Non ci credevi, eh? No, non mi interessava proprio Beh, Barker, adesso è ora che tu faccia la tua parte Mostra a Fish come impostare una rotta per l'ossario Stai scherzando? Ho giurato di non tornarci mai più Ti capisco Sto mondo ci costringe ad essere tutti bugiati Facendo a pezzi quel pilota Il pilota enemigo è tentato Stai scherzando? Stai scherzando? Stai scherzando? Stai scherzando? Stai scherzando? Grazie.